Sì, sostanzialmente noi all'Inps abbiamo smontato tutte le cose che c'è a me. L'Inps è impegnato a dare delle risposte in base a che avrebbe avuto per attuare l'accordo entro questa settimana. Per attuare l'accordo? Eh, c'è l'accordo. Sì, sì, sì. L'accordo non può essere fatto se l'Inps non fornisce i numeri. La regione Lombardia è un impantanamento che... Deve dire, in questo speriamo che hai detto, Gian, non è che è ancora un'impunanza. No, no, dovrebbe essere fatto da tutti i passaggi, dovrebbe essere chiuso a tutti. Proprio quello lì dei passaggi. No, 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 è quello dell'Inps, è il muro praticamente l'Inps. La comunicazione del Ministero del Lavoro di gennaio, che riconosce la validità di quello che abbiamo fatto in regione Lombardia, questi, prima hanno detto che loro hanno mandato una nota dove hanno detto che non si apre questa cosa qua. Poi hanno detto che era un problema di software, poi che non hanno ricevuto questo, insomma, c'erano anche loro in commissione, in audizione, hanno cambiato versione quattro volte. Adesso hanno ricevuto tutto? Dovrebbero aver ricevuto tutto, hanno detto che ci pensavano a risolvere, però ce lo ricordiamo un attimino. Ma in audizione. Ma quindi sono la metà, quelli che rientrano lì dentro sono due o trecento. Sono 800. Dovrebbero essere 600-800, ma poi sull'Umbra, forse anche uno solo, se ha diritto, deve andare. No, no, questo è fuori tutto. Lui è uno di quelli che se non va, quanto è quando ne finisce la mobilità? Manca. E quanto ti manca? Cinque mesi. Cinque mesi. A lui otto settimane. Sei settimane. Il problema è che se non fanno questi sei settimane... Ma io se non riesce a coprire quello... Sì, ha la piccola, signora. Sì, ha la piccola, signora. Sì, ha la piccola, signora. Invece è pazzo totale. È pazzo totale, sì. Però se lo sento a chiedere, sì. Allora, questo è il numero del China. Appena esce il suo numero, va allo scottello, va bene? Abbiamo andato ancora l'aspetto. Eh sì, lo rilasciamo qua. Buongiorno, signora. Buongiorno. Degli esodati con chi parliamo? Eh. Self service. Io farei self service. Pietro Foroni, siamo all'interno dell'Inps perché gli esodati non hanno ancora trovato pace. No, ma la Regione Lombardia è riuscita a trovare un escamotaggio per alcune centinaia di esodati lombardi. Il Ministero del Lavoro risponde in maniera favorevole alla nostra intesa, al nostro accordo, riconoscendo la bontà di quello che abbiamo fatto e l'Inps Lombardia non lo applica. È il paradosso, per cui ancora una volta la politica trova soluzioni, cerca di trovare soluzioni, ancora una volta la burocrazia si mette di mezzo e blocca tutto. Oggi siamo qui, ma non chiedere chissà che cosa, a chiedere l'applicazione di un qualcosa che è già a livello della normativa, cioè a chiedere l'applicazione della legge. Non siamo a chiedere, oltre a chiedere cambiamenti della normativa sulla riforma Fornero, siamo a chiedere l'applicazione della legge. Ed è paradossale che l'Inps regionale ostacoli questa cosa. Regione Lombardia trova la soluzione per una platea di esodati e questi la bloccano. Ancora una volta la burocrazia, uno dei mali di questo paese. Però siccome l'Inps è l'ultimo passaggio che ci permette di dare una mano a alcune centinaia di esodati in regione Lombardia, grazie a un accordo tra regioni e parti sociali. Quindi usiamo Via Pola per lanciare questo messaggio all'Inps. Metti il fibro, quindi lei è stato infortunato. Grazie per questa scelta. Comunque, io sono disponibile a ricevere una delegazione per capire in che modo possiamo renderci... Pietro, magari usi il dottore come tramite. Lui è il nostro consiglio regionale che ha... E' evidente che noi non possiamo che essere da tramite rispetto a problemi... No, però il tramite va bene, il tramite va bene. E' meglio avere il tramite che non avere. Lasciamo entrare loro... Oggi è una manifestazione davvero particolare. Siamo all'interno dell'Inps qui a Milano. Perché? Perché la cosa assurda è che un cittadino ha bisogno di risposte e oltre il danno alla beffa. Il danno di una riforma fornero che appunto sposta il paletto delle pensioni. Quindi modifica un contratto in corsa e questa è una cosa che solo in Italia può avvenire. Quello di spostare la pensione senza accordo con i lavoratori. L'altro è che appunto gli esodati che si sono trovati in questa situazione assurda per colpa di un governo oggi chiedono una serie di risposte. Risposte che però dall'Inps che è l'organo di governo non arrivano. E quindi la Lega si fa promotrice nel sollecitare, nel chiedere all'Inps risposte, trasparenze che sono indispensabili per dimostrare che il Paese Italia esiste ancora. In Regione Lovardia avete lavorato duro per trovare una soluzione che però non arriva perché l'Inps regionale non funziona. Ma noi abbiamo lavorato e abbiamo fatto anche in Commissione Lavoro una serie di iniziative proprio per mettere una pezza a questa demenzialità della riforma Fornero che ha creato questo buco e a mio avviso andrebbero licenziati sia i politici che hanno votato quel provvedimento ma anche chi ha pensato quel provvedimento. Ecco abbiamo cercato di mettere una pezza. Oggi la pezza non viene applicata perché ancora una volta l'apparato di governo è lontano dalla funzionalità che i cittadini chiedono. Non è pensabile che per un problema di software o per un problema di procedura oggi al cittadino non arrivino le risposte. Mi auguro davvero che una volta per tutte questo Paese si possa curare dando quelle risposte che anche in questo caso gli esodati meritano e aspettano ormai da tempo. Sì assolutamente anche perché la Lega ha già con una mozione ma anche con un intervento dell'assessore Garavaglia dato la propria disponibilità attraverso Regione Lombardia a cercare di dare una mano a queste persone esodate visto che mancava la questione legata alla mobilità per poter raggiungere gli anni sufficienti per poter maturare la pensione ha messo a disposizione le proprie risorse, ha detto noi ci siamo, se volete mettiamo le nostre risorse a disposizione. E quindi si è raggiunto anche un accordo a livello anche sindacale, c'è stata quindi la possibilità davvero di aiutare circa 800 persone in Lombardia, il problema è che l'Inps non ne vuole sapere, pensate un po' voi. Paghiamo noi e l'Inps non vuole adempiere a quelli che sono i suoi ruoli, a quelli che sono ovviamente quello che dovrebbe fare, quello che è il suo compito principale, questo denota un'irresponsabilità da parte di questo ente che è grandissima. Ci auguriamo con la manifestazione di oggi di far sì che si smuova questa burocrazia perché siamo stufi. Paghiamo noi e non ci fate voi quelli che sono i compiti che vengono a voi assegnati. Quindi era necessario un intervento di questo genere. Abbiamo esposto il problema relativamente al fatto, alla soluzione che Regione Lombardia ha trovato per alcuna platea di esodati che l'Inps e Lombardia sembrerebbe non applicare, abbiamo posto il problema, ci ha assicurato la massima attenzione, ne parlerà con la dirigenza di Inps e Lombardia, per cui siamo assolutamente fiduciosi e siamo assolutamente convinti di quello che abbiamo detto. Regione Lombardia ha trovato una soluzione riconosciuta dal Ministero del Lavoro che ha riconosciuto la bontà della soluzione trovata, la legittimità della soluzione trovata tocca all'Inps, solo all'Inps applicarla. Ci sono persone che se non rinvengono applicazioni, non rinvengono applicazioni su questa soluzione, significa che per 6-7 anni ritardano la pensione per 6-7 anni, hanno già 60 anni, 6-7 anni senza lavoro e senza reti. Con la nostra soluzione invece potrebbero andare in pensione secondo i requisiti preformati. Quindi i provvedimenti della regione sono fermi a causa dell'Inps? Sembrerebbe che sono fermi a causa dell'Inps, non si capisce se a causa dell'Inps centrale o dell'Inps direzione Lombardia, hanno detto che è un problema di soffro, poi chi non conoscevano questa comunicazione, gliel'abbiamo ricordato, non è chiaramente responsabilità di questa sede, ma anche una responsabilità se si possono rinvenire dalla direzione centrale. Qui abbiamo trovato un argomento favorevole, noi continuiamo a essere fiduciosi. Ribadiamo, abbiamo trovato una soluzione riconosciuta dal Ministero del Lavoro. La burocrazia, molto spesso si parla della politica, ma la politica trova soluzioni e molto spesso trova l'intoppo a livello burocratico. In questo caso l'intoppo a livello burocratico significa per alcune centinaia di persone, ma forse anche per una sola, il fatto di rimanere 6-7 anni senza reddito e di andare in pensione dopo 6-7 anni. E da avere già 60 anni senza reddito dopo 6-7 anni questa situazione non è assolutamente facile, ripeto, e poi hanno il diritto di andare in pensione. Prendiamoci di impegno che se entro a fine di prossima settimana non c'è una risposta positiva, andiamo nella sede centrale e non ci muoviamo. Ecco, volevo anche dire che ho sentito anche l'On. Terriga che ha preannunciato a brevissimo un'interrogazione fondamentale. Entro una settimana, andiamo una settimana. Non dite cheese perché non c'è niente bene.